organizzata veramente, come vedete, da queste due splendide famiglie, questi minuscoli pavoni che sono appunto il futuro del nostro carnevale e che saranno loro poi domani ad avere le chiavi del nostro paese. E qui dietro ci sono Sasso e Massimiliano con le proprie consorti che aprono questa sfilata, guardate che coscia, che stacco di coscia. Francesco, ma sono parenti delle maggiorenze di giovedì? Esattamente. Parenti stretti proprio, immaginiamo che il tipo di parentela ci possa essere.